Sì, sono il dottor Lim Il campo operatorio è pronto Conti alla rovescia da dieci Ok Dieci Nove Comincia a fare effetto È stata una cosa un po' troppo rapida, non trova? Stia tranquillo Grazie Valori nella norma Svegliatela, era Vogler, l'intervento è sospeso Ehi! Così la uccidi? Davvero? Non eri tu a volerle somministrare un farmaco sperimentale 5 secondi dopo l'operazione? Conosce tutti i rischi, è stata informata Beh, il responsabile della ricerca no La vita non è sua, non deciderla La ricerca è sua Ah certo, se tira le cuoia la percentuale va male Se la percentuale va male, la ricerca va male Sono soldi buttati E un protocollo salvavita resta fuori mercato Una persona, un puntino nei dati Sai cos'è la Food and Drug Administration? Una persona non può danneggiarne migliaia Grazie a Dio ci sei tu a salvare tutte quelle vite Il consiglio si riunisce anche stasera Perché non ti rilassi? Gioca con il computer Oppure guarda la tua soap Ho saputo che licenziano il bel dottorino oggi Beh, sarà commovente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti